La presenza molto importante di materiali e documenti d'archivio in numerose delle installazioni della tredicesima Biennale d'architettura e più in generale nella maggioranza delle mostre contemporanee è stato lo spunto da cui è nato un convegno di due giorni dal titolo Archivi e Mostre, organizzato a margine dell'esposizione, curata da David Chipperfield. Un'occasione per fare il punto sul lavoro di riordino che la Biennale, in collaborazione con la soprintendenza archivistica del Veneto, statuando sul proprio archivio, l'ASAC. Ecco un estratto del discorso con il quale il presidente Paolo Baratta ha aperto il convegno. È ormai da tempo che non c'è più Mostra senza archivi. Finché c'era da lanciare le avanguardie e da buttarle in fronte al pubblico, ecco quello poteva bastare come gesto di rappresentazione da parte di un'istituzione come la Biennale. Poi, come dire, l'arte contemporanea dal momento della rottura, al suo inserimento nella vita di una comunità e nella vita della società in genere, per la quale non basta lo stupore della novità, ma occorre anche lo stupore della intensità dell'opera o lo stupore o l'interesse per la complessità e l'intensità del progetto d'architettura o della composizione musicale, nel momento in cui il tema è l'intensità dello scambio tra chi vede e l'opera, tra chi ascolta e l'opera, per la rappresentazione delle opere d'arte, d'architettura e di musica, è sempre più indispensabile, come dire, della prospettiva storica, cioè il metterle in relazione con quelli che seguono vie parallele o quelli che hanno preceduto. Se posso rubare un momento a David il titolo Common Ground, c'è un Common Ground che va sempre, come dire, coltivato per ogni mostra perché bisogna individuare sempre un po' le relazioni che ci sono, perché il processo di conoscenza non è più un processo di stupore di fronte alla novità, ma è un processo di penetrazione delle realtà e quale migliore strumento per penetrare meglio la conoscenza dell'arte che non quella di vedere le correlazioni con ciò che già si conosce, di vedere ciò che già si è visto, dell'esaminare la realtà attraverso le relazioni che ci sono tra opere di diverso autore e di diverso tempo. Per cui l'archivio, ecco, che torna a diventare proprio sul contemporaneo, quindi non stiamo parlando di mostre di arte rinascimentale, non stiamo parlando degli archivi storici dai quali è ovvio che si trae per fare le mostre sul Beato Angelico, ma è sul contemporaneo, è sulla rappresentazione di oggi e del domani che ci è necessario quello che è successo ieri. Ed è per questo che allora il rapporto tra archivi e mostre si è evoluto nella nostra riflessione da un fenomeno estemporaneo a uno dei temi di fondo di un'organizzazione come la nostra impegnata a fare ogni anno una mostra di arte o architettura, una mostra, un festival di musica o di danza o di teatro per non parlare del cinema. E proprio per il cinema abbiamo quest'anno proprio portato in mostra delle opere restaurate della collezione di film di cui dispone l'ASAC. Ma insomma il tema del rapporto tra archivi e mostre è un tema permanente. Ogni mostra avrà ricorso agli archivi e ogni mostra sarà l'occasione per parlare di questi archivi e per parlare, diffondere la loro conoscenza sulla loro esistenza, discutere sulle modalità con cui ciascuno procede, i criteri. Cioè la miniera degli archivi è essenziale per rappresentare ciò che ancora deve essere e quindi questo è diciamo il paradosso, ma è un paradosso vivo e operante. E se voi vedete la tabella di cui poi vi farà vedere meglio David, abbiamo fatto una bella tabella, abbiamo fatto una specie di inchiesta di quanti sono i pezzi esposti da ciascun architetto che derivano da un archivio. Abbiamo anche la classifica tra chi quest'anno ha raggiunto i massimi livelli e abbiamo Foster alla grande numero uno, ricorso ad archivi che non finisce più, ma anche Fulvirace non a caso è stato promotore perché c'è una bella filza di opere che ha individuato e ha tratto ad archivi. E i nomi di Torno al Sole è la dimostrazione che noi con gli archivi non li consideriamo più il culto della memoria o il culto della conservazione, ma li consideriamo uno strumento per operare tutti i giorni e per conoscere meglio e per meglio guardare al futuro. E in questa, se si vuole, è l'evoluzione che con questo convegno vorremmo dare e vorremmo lavorare insieme agli amici che lavorano presso gli archivi o presso le sovrintendenze per aiutarci reciprocamente a far evolvere l'attenzione del pubblico, l'attenzione delle autorità e l'attenzione di tutti verso questa essenziale forma di strumento di conoscenza che è l'archivio che ci offre appunto le prospettive, le relazioni, gli approfondimenti.